Capitolo 8 Scontro di volontà Quando Marley non aveva ancora sei mesi, lo iscrivemmo a un corso di educazione all'obbedienza. Dio sa se ne aveva bisogno. Nonostante i progressi nel recupero bastone quel giorno sulla spiaggia, si stava rivelando un allievo impegnativo, ottuso, sfrenato, costantemente distratto, una vittima della sua infinita energia nervosa. Stavamo incominciando a pensare che non fosse come gli altri cani, sintetizzò mio padre dopo i tentativi di accoppiarsi con il suo ginocchio. Quel cane è pazzo! Avevamo bisogno di aiuto professionale. Il nostro veterinario ci parlò di un centro locale che offriva corsi di educazione all'obbedienza. Gli insegnanti erano volontari, seri dilettanti che avevano probabilmente già ottenuto buoni risultati in fatto di comportamento con i loro cani. Il corso era formato da otto lezioni e costava 50 dollari, che ritenevamo un affare, considerando specialmente che Marley poteva distruggere 50 dollari di scarpe in 30 secondi. E il centro garantiva che saremmo tornati a casa dopo il diploma con una specie di lessi. Al momento dell'iscrizione incontrammo la donna che avrebbe tenuto le lezioni. Era un'austera istruttrice di cani, che propugnava una teoria secondo la quale non esistevano cani incorregibili, solo proprietari sventurati e con poca forza di volontà. La prima lezione sembrò dimostrare che aveva ragione. Prima che fossimo scesi completamente dalla macchina, Marley scorse gli altri cani riuniti con i loro padroni sull'asfalto. Un party! Ci scavalcò con un balzo, saltò giù dall'alto e se la squagliò, tirandosi dietro il guinzaglio. Passò velocemente da un cane all'altro, annusando parti intime, perdendo pipì e facendo volare in aria una quantità di sputi. Per Marley era un festival degli odori, così tanti genitali, così poco tempo, e stava accogliendo il momento attento a mantenersi davanti a me mentre gli correvo dietro. Ogni volta che l'avevo quasi raggiunto, si allontanava ancora un po'. Infine lebi quasi sottotiro e compì un balzo gigantesco, atterrando con entrambi i piedi sul suo guinzaglio. Questo lo fece arrestare così bruscamente che per un momento pensai di avergli spezzato il collo. Scattò indietro, cade sul dorso, si girò e mi guardò con la serena espressione di un ero in omane che si è appena fatto la dose. Nel frattempo, l'istruttrice ci stava bruciando con il suo sguardo laser. «Prendete il vostro posto, per favore!» disse secca, e quando vide che sia io sia Jenny stavamo trascinando Marley in posizione, aggiunse, «Dovrete decidere chi di voi due farà da conduttore!» Cominciai a spiegare che volevamo partecipare a entrambi per poter lavorare con lui a casa, ma lei mi interruppe. «Un cane?» disse categoricamente. «Può rispondere a un solo padrone!» Feci per protestare, ma mi zitti con una delle sue occhiate trucci, le stesse che usava probabilmente per ridurre i cani alla sottomissione, e mi difilai con la coda tra le gambe, lasciando il comando padrona Jenny. Questo fu probabilmente un errore. Marley era già notevolmente più forte di Jenny e lo sapeva. La dominatrice aveva appena pronunciato qualche frase sull'importanza di stabilire la supremazia sui nostri cani quando Marley decise che il barboncino dall'altra parte del piazzale meritava un'occhiata più accurata. Partì all'impazzata con Jenny al seguito. Tutti gli altri animali siedevano placidamente accanto ai loro padroni a regolari intervalli di 4 metri, aspettando ulteriori istruzioni. Jenny stava valorosamente combattendo per piantare i piedi a terra e fermare Marley, ma lui si muoveva indomito, trascinandola attraverso il posteggio. Mia moglie somigliava straordinariamente a uno di quegli appassionati di scenautico che si fanno trascinare da un potente motoscafo. Stavano guardando tutti. Qualcuno rideva. Io mi coprì gli occhi. Marley non era tipo da presentazioni formali. Si precipitò contro il barboncino e infilò immediatamente il naso tra le sue zampe. Pensavo fosse il nodo canino del maschio per chiedere «Vieni qui spesso?» Dopo che Marley ebbe fatto al collega una completa visita urologica, Jenny riuscì finalmente a ritrascinarlo al posto. La dominatrice annunciò a calma. «Quello, signori, è un esempio di cane a cui è stato concesso di pensare di essere il maschio alfa del suo branco. In questo momento ha assunto il controllo». Come approvare il suo punto di vista, Marley aggredì la sua coda, girandola impazzata, facendo schioccare le mascelle e avvolgendo i guinzagli attorno alle caviglie di Jenny, finché non rimase completamente immobilizzata. Trasalì per lei e ringraziai di non essere al suo posto. L'istruttrice cominciò a far imparare alla classe i comandi di seduto e terra. Jenny ordinava con fermezza. «Seduto!» E Marley le balzava addosso e le metteva le zampe sulle spalle. Lei gli premeva il sedere per terra e lui si ribaltava per farsi accarezzare la pancia. Cercava di strattonarlo al suo posto e lui afferrava il guinzaglio con i denti, scuotendo la testa di qua e di là come se stesse lottando con un pitone. Uno spettacolo penoso! A un certo punto aprì gli occhi e vidi Jenny sdraiata sull'asfalto a faccia in giù e Marley sopra di lei, che ansimava felice. Più tardi Jenny mi disse che stava cercando di mostrargli il comando a terra. Mentre la lezione si concludeva e Jenny e Marley mi raggiungevano, la dragonessa ci fermò. «Dovete controllare di più quell'animale», disse sogghignando. «Beh, grazie per il prezioso consiglio» e pensare che ci eravamo iscritti solo per procurare distrazione al resto dei partecipanti al corso. Nessuno dei due fiatò. Ci ritiramo in macchina umiliati e tornamo a casa in silenzio. L'unico suono, il forte ansimare di Marley mentre cercava di riprendersi dalla sua prima esperienza di lezione di gruppo. Infine asserì, una cosa va detta in suo favore. La scuola gli piace da morire. La settimana successiva Marley e io ritornammo, questa volta senza Jenny. Quando le suggerì che io ero probabilmente la cosa più vicina a un cane alfa, rinunciò sollevata al suo fugace titolo di proprietaria e conduttrice e decise che non avrebbe mai più mostrato la faccia in pubblico. Prima di uscire di casa diedi un colpetto sulla schiena di Marley, lo sovrastai e borbottai nella mia voce più intimidatoria. Sono io il boss, tu non sei il boss, io sono il boss, capito cane alfa? Batté la coda sul pavimento e cercò di rosicchiarmi i polsi. La lezione della sera era basata sul comando al piede, qualcosa che ero molto deciso a insegnargli. Ero stanco di lottare con Marley a ogni passo di ogni uscita. Aveva già trascinato per terra Jenny una volta quando era partito all'inseguimento di un gatto, lasciandola con le ginocchia sanguinanti. Era ora che imparasse a camminare tranquillamente al nostro fianco. Lo costrinse a prendere posizione nella fila, tirandolo indietro da ogni cane a cui passavamo accanto. La dominatrice consegnò a ognuno di noi una corta catena con un anello di metallo saldato a ciascuna estremità. Questi, ci disse, erano collari a strangolo e sarebbero stati le nostre armi segrete per insegnare ai cani a camminarci al fianco senza sforzo. Erano collari molto semplici da usare. Quando il cane si comportava bene e camminava di fianco al padrone come avrebbe dovuto fare, con il guinzaglio allentato, la catena penzolava mollemente intorno al suo collo. Ma se il cane si lanciava in avanti o virava di fianco, la catena formava un cappio, strangolando l'animale e costringendolo alla sottomissione. Non ci voleva molto, promise la nostra istruttrice, prima che i cani imparassero a sottomettersi o a morire di asfissia. Deliziosamente perfido, pensai. Cominciai a infilare il collare a strangolo sulla testa di Marley, ma lui lo vide arrivare e lo ferrò con i denti. Gli apri la mascella per tirarglielo fuori e tentai ancora. Lo ferrò di nuovo. Tutti gli altri cani avevano già su i loro collari. Tutti stavano aspettando. Gli strensi in un uso con una mano e con l'altra cercai di infilargli la catena. Lui stava tirando indietro, cercando di aprire la bocca perché potesse aggredire di nuovo il misterioso serpente d'argento. Infine riuscì a fargliela passare dalla testa e lui si buttò a terra, dibattendosi spazientito, le zampe in aria, la testa che si muoveva di qua e di là finché non riuscì ad afferrare di nuovo la catena con i denti. Guardai l'istruttrice. Gli piace? Come mi era stato ordinato, feci alzare Marley e gli torsi la catena di bocca. Poi lo spinsi giù in posizione seduta e rimasi accanto a lui, la mia gamba sinistra che sfregava la sua spalla destra. Al tre dovevo dire Marley piede e muovere il mio piede sinistro, ma il destro. Se incominciava a spostarsi di qua e di là, una serie di correzioni minori, leggeri strattoni al guinzaglio, l'avrebbero rimesso in riga. Classe al tre Gridò l'arpia Marley stava tremando di eccitazione. Il piccolo luminoso oggetto attorno al suo collo lo faceva schiumare. Uno Due Tre Marley piede Ordinai Non appena mossi il mio primo passo, decollò come un caccia da una porta aerei. Tratteni forte il guinzaglio che gli provocò un orribile colpo di tosse mentre la catena gli serrava le vie respiratorie. Scatto indietro per un istante, ma non appena la catena si allentò, dimenticò il momentaneo senso di soffocamento. Storia antica in quel piccolo compartimento del suo cervello dedicato alle lezioni di vita imparate. Si lanciò ancora in avanti. Tirai indietro e lui ansimò di nuovo. Continuammo così per tutta la lunghezza del posteggio. Marley che strattonava avanti, io che strattonavo indietro. Ogni volta con crescente vigore. Stavo attossendo e ansimando. Io stavo grugnendo e sudando. Tenga freno quel cane, gridò l'istruttrice. Cercavo di farlo con tutta la mia forza, ma la lezione non veniva assimilata e pensai che Marley si sarebbe strangolato prima di capire quel che doveva fare. Nel frattempo, gli altri cani camminavano impettiti al fianco dei loro proprietari, rispondendo a correzioni minori. Per carità, Marley, sussurravo. C'è in gioco l'orgoglio della nostra famiglia. La dominatrice aveva fatto allineare i cani e riprovò. Di nuovo, Marley sbandò maniacalmente attraverso l'asfalto, gli occhi in fuori strangolandosi mentre procedeva. Dall'altra parte, la donna ditò me e Marley alla classe come un esempio da non seguire. «Ecco», disse spazientita, allungando una mano, «le faccio vedere». Le porsi il guinzaglio e lei mise efficientemente Marley in posizione, tirando il collare mentre gli ordinava di sedersi. Ovviamente, Marley sedette sulle zampe posteriori, guardando l'ansioso. «Maledizione!». Manovrando abilmente il guinzaglio, l'istruttrice si avviò con lui. Ma quasi immediatamente Marley balzò avanti come se stesse trainando una slitta. Lei lo corresse pesantemente, facendogli perdere l'equilibrio. Lui incespicò e mise un sibilo e si lanciò di nuovo in avanti. Sembrava che stesse per strapparle il braccio. Avrei dovuto essere imbarazzato, ma invece provavo una strana sorta di soddisfazione. Non stava avendo più successo di me. I miei compagni di corso ridacchiavano e io brillavo di perverso orgoglio. «Visto? Il mio cane è terribile con tutti, non soltanto con me». Adesso che non ero io solo alla berlina, dovevo ammettere che la scena era davvero esilarante. Avendo i due raggiunto le estremità del parcheggio, si girarono e ripresero a tornare a scatti verso di noi, la dominatrice alle soglie di un colpo apoplettico a causa della terribile rabbia che provava. Marley gioioso oltre ogni dire. Lei tirava furiosamente il guinzaglio e Marley, con la schiuma alla bocca, tirava dalla sua parte con più forza, divertendosi un mondo per quel fantastico gioco che la sua insegnante gli aveva chiesto di dimostrare. Quando mi vide, partì come un razzo. Con una scarica quasi soprannaturale di adrenalina, si lanciò verso di me, costringendo la dominatrice a mettersi a correre per non finire in terra. Non si fermò finché non mi arrivò addosso con la sua consueta joie de vivre. La donna mi lanciò un'occhiataccia che mi disse che avevo superato un'invisibile linea e non ci sarebbe stata marcia indietro. Marley si era preso gioco di tutto quel che lei predicava sui cani e sulla disciplina. L'aveva pubblicamente umiliata. Mi restituì il guinzaglio e girandosi verso la classe come se questo sfortunato episodio non fosse mai avvenuto, disse Ok classe, altre? Quando la lezione terminò, mi chiese se potevo restare per un minuto. Attesi con Marley mentre rispondeva pazientemente alle domande degli altri allievi del corso. Quando l'ultimo se ne fu andato, si gira verso di me e in un nuovo tono conciliante disse Credo che il suo cane sia ancora troppo giovane per un corso di educazione all'obbedienza. È una peste, vero? Dissi, provando un nuovo senso di cameratismo con lei adesso che avevamo diviso la stessa umiliante esperienza. Non è semplicemente pronto per questo, replicò. Deve crescere ancora un po' per farlo. Cominciai a rendermi conto di dove voleva arrivare. Sta cercando di dirmi... È una distrazione per gli altri cani. Che ci sta... È troppo eccitabile. Sbattendo fuori dal corso? Può sempre riportarlo fra sei o otto mesi. Allora ci sta sbattendo fuori. Sarò rietta di rimborsarla. Ci sta sbattendo fuori. Sì, disse infine. Vi sto sbattendo fuori. Come se avesse preso l'imbeccata, Marley alzò la gamba e si lasciò andare uno schizzo di urina, mancando solo di pochi centimetri il piede della amata istruttrice. A volte un uomo ha bisogno di arrabbiarsi per tirare fuori la grinta. L'arpia mi aveva fatto arrabbiare. Ero proprietario di un bell'abrador retriever di razza, un orgoglioso membro della stirpe famosa per la sua abilità nel guidare ciechi, salvare vittime di disastri, assistere cacciatori e recuperare pesce dalle onde dell'oceano. Il tutto con calma intelligenza. Come osava eliminarlo dopo sole due lezioni. Era un po' vivace, ma anche animato soltanto da buone intenzioni. Avrei dimostrato a quell'insofferente vipera che Grogan's Majestic Marley of Churchill non era uno che si arrendeva facilmente. L'avremmo rivista a Westminster. Per prima cosa il mattino dopo fecci uscire in cortile Marley con me. Nessuno sbatte fuori i ragazzi Grogan da un corso di educazione all'obbedienza, gli dissi. Impossibile da addestrare, vedremo che è impossibile da addestrare, giusto? Lui saltellava su e giù. Possiamo farcela Marley? Si scosse. Non ti sento, possiamo farcela? Guai. Così va meglio, mettiamoci al lavoro adesso. Iniziamo con il comando Siedi, che praticavo con lui da quando era un cucciolo e in cui era già bravo. Lo sovrastai, gli rivolsi la mia occhiata più truce e con voce ferma ma calma gli ordinai di sedersi. Sedette. Lolo dai. Ripetemmo l'esercizio diverse volte. Poi passammo al comando Terra, un altro ordine che avevo praticato con lui. Lui mi fissò intensamente negli occhi, allungando il collo, anticipando le mie direttive. Lentamente alzai la mano in aria e ve la teni mentre aspettava la parola. Con un brusco movimento verso il basso, feci schioccare le dita, indicai il suolo e dissi Terra! Marley crollò con un tonfo. Non avrebbe potuto andare giù con più entusiasmo neanche se avesse sentito il proiettile di un mortaio passargli accanto. Jenny, seduta sul portico con il suo caffè, lo notò anche lei e gridò Ci siamo! Dopo alcune repliche di Terra, decisi di passare alla successiva sfida. Vieni! Questo era abbastanza difficile per Marley. Non era il fatto di venire il problema. Era aspettare il posto finché non lo chiamavamo che non capiva. Il nostro cane, con deficit di attenzione, era così ansioso di buttarsi addosso a noi che non riusciva a stare fermo mentre ci allontanavamo. Lo mesi in posizione seduto di fronte a me e fissai gli occhi nei suoi. Mentre ci fissavamo a vicenda, alzai il palmo tenendolo di fronte a me come un vigile. Fermo! Dissi. E mossi un passo indietro. Lui si mobilizzò, guardandomi ansioso, aspettando il minimo segnale per potermi raggiungere. Al mio quarto passo indietro non ce la fece più e partì, raggiungendomi di corsa e abbattendosi contro di me. Lo sgridai e provai di nuovo. E di nuovo. Ogni volta mi concedeva di allontanarmi un po' di più prima di caricare. Alla fine stavo a circa 15 metri di distanza in mezzo al cortile, il palmo in fuori verso di lui. Aspettai. Sedeva bloccato in posizione, l'intero corpo che tremava per l'anticipazione. Potevo vedere l'energia nervosa che si stava accumulando in lui. Era come un vulcano pronto a esplodere. Una penne duro. Contai fino a dieci. Non si mosse. Aveva gli occhi fissi su di me. I muscoli sporgenti. Ok, basta tortura, pensai. Abbassai la mano e gridai Marley, vieni! Mentre si catapultava in avanti, mi acquattai e battei le mani per incoraggiarlo. Pensai che avrebbe potuto precipitarsi a casaccia attraverso il cortile, ma venne invece avanti dritto. Perfetto, pensai. Su, bello! Lo incitai. Su! E venne. Stava sopraggiungendo a tutta birra verso di me. Rallenta! Dissi. Ma continuava ad avanzare. Rallenta! Aveva quell'espressione assente un po' folle sul muso e un istante prima dell'impatto mi resi conto che il pilota aveva abbandonato il timone. Era una mandra impazzita formata da un unico cane. Ebbi il tempo per un ultimo comando. Stop! gridai. BAM! Mi finì addosso senza rallentare e io cadi indietro, sbattendo forte per terra. Quando aprì gli occhi, qualche secondo dopo, mi stava a cavalcioni con tutte e quattro le zampe, sdraiato sul mio petto, leccandomi disperatamente la faccia. Come me la sono cavata, boss? Tecnicamente parlando, aveva eseguito esattamente i miei ordini. Dopotutto non gli avevo detto di fermarsi mentre mi stava raggiungendo. Missione compiuta! asserì con un gemito. Jenny ci sbirciava dalla finestra della cucina e gridò Vada a lavorare! Quando voi due avete finito, non dimenticate di chiudere le finestre. Dovrebbe piovere nel pomeriggio. Concessi uno spuntino al mio giocatore di football, poi feci una doccia e mi recai anch'io al lavoro. Quando arrivai a casa quella sera, Jenny mi stava aspettando alla porta d'ingresso e capì che era sconvolta. «Va a vedere in garage!» disse. Aprì la porta del garage e la prima cosa che vidi fumarle, sdraiato sul suo tappeto con l'aria abbattuta. In quell'istante mi accorsi che il muso e le zampe anteriori avevano qualcosa di strano. Erano di un marrone scuro, non del loro solito giallo chiaro, coperte di sangue secco. Regolai la messa a fuoco e inspirai. Il garage, il nostro indistruttibile bunker, era nel caos. I tappetini erano a brandelli, la pittura era stata scrostata dai muri, l'asse da stiro rovesciata, il rivestimento strappato. Ma in condizioni peggiori era il vano della porta dove mi trovavo. Sembrava che fosse stato attaccato da una macchina per sminuzzare i documenti. Pezzi di legno erano disseminati in un semicerchio di circa quattro metri attorno all'anta, che era semisventrata. L'ultima parte dello stipite mancava completamente ed era introvabile. Sangue imbrattava le pareti dove Marley aveva sfregato zampe e muso. «Maledizione!» esclamai, più sgomento che arrabbiato. La mia mente tornò alla povera signora Nedermeyer e l'assassinio con la sega elettrica al di là della strada. Avevo l'impressione di essere sulla scena di un crimine. Da dietro mi giunse la voce di Jenny. «Quando sono tornata a casa per pranzo andava tutto bene!» disse. «Ma capivo che stava per piovere!» Dopo che era tornata al lavoro, era scoppiato un forte temporale, con scrosci di pioggia, fulmini abbaglianti e tuoni così forti che sembrava che ti si abbattessero sul petto. Quando era arrivata a casa un paio d'ore dopo, Marley, in piedi in mezzo alla carneficina causata dal suo tentativo di fuga, appariva agitatissimo. Era così patetico che Jenny non era riuscita a sgridarlo. Inoltre, l'incidente era chiuso, non avrebbe capito perché veniva punito. Ma Jenny si era sentita così affranta per il folle attacco alla nostra nuova casa, la casa per cui avevamo lavorato tanto, che non era riuscita a occuparsi né a occuparsi di lui. «Aspetta che torni a casa tuo padre!» aveva minacciato e richiuso la porta. A cena, cercammo di mettere in prospettiva quella che adesso definivamo sfrenatezza. Tutto quel che riuscivamo a immaginare era che, solo e terrorizzato mentre si abbatteva il temporale sul quartiere, Marley aveva deciso che la sua unica chance di sopravvivenza era scavare un passaggio che gli permettesse di entrare in casa. Stava probabilmente ascoltando qualche antico istinto trasmessogli dal suo antenato, il lupo, e aveva perseguito l'obiettivo con una zelante efficienza che non avrei mai ritenuto possibile senza l'aiuto di un pesante macchinario. Quando i piatti furono lavati, Jenny e io andammo in garage, dove Marley, di nuovo se stesso, afferrò un giocattolo e ci saltellò attorno, in attesa di un po' di tiro alla fune. Lo tenne fermo mentre Jenny gli strofinava via il sangue dal pelo con una spugna. Poi ci guardò, scodinzolando, mentre facevamo un po' di ordine. Buttammo fuori i tappeti e il rivestimento dell'asse da stiro. Riunimmo con la scopa quel che restava della nostra porta. Puliamo via il sangue dalle pareti e preparammo una lista di materiali da acquistare dal ferramenta per riparare il danno. La prima delle innumerevoli riparazioni che avrei effettuato nel corso della sua vita. Marley sembrava felice di averci lì, a dargli una mano con il suo tentativo di ristrutturazione. Non devi avere quell'aria felice. Lo rimproverai e lo condussi dentro per la notte. Lo rimproverai e lo rimproverai e lo rimproverai e lo rimproverai. Lo rimproverai e lo rimproverai e lo rimproverai.